Una città da gustare, a Fano il 28 e 29 di ottobre, due giorni dedicati al cibo e all'alimentazione, con ospiti illustri come Andrea Segre e Paolo Tuvaldi. Parleremo di ospitalità evoluta, cibo, ristorazione e tecnologia. Tecnologia collegata all'elio gastronomia. Parleremo di cucina e ristorazione del futuro. Gli eventi si svolgeranno presso la Sala della Concordia del Comune di Fano, la Sala Ipogea della Mediateca Montanari, la Sala di Rappresentanza della Fondazione del Cassio di Risparmio di Fano e, per quanto riguarda la tecnologia, presso il papelato Sant'Arcancelo, Cassio della Musica e della Tecnologia. Intervenite numerose, l'ingresso è gratuito. Grazie a tutti!